Una faglia che si muove non è solo una faglia, può diventare una bomba orologeria se sopra ci sono case e famiglie. Il sindaco del comune interessato dal cedimento ha l'ingrato compito di emettere un'ordinanza di sgombero dei fabbricati proprio lì dove il terreno ha ceduto, cede e forse cederà ancora, a meno che non si intervenga adeguatamente. Questa volta il luogo in questione è Bucchianico, Travia Piane e Contrada Frontino, area interessata da un movimento franoso individuato già da un anno. Sul posto infatti erano stati posizionati dei sensori di rilevamento che, abbinati all'osservazione diretta e alle indagini geognostiche, hanno spinto il sindaco Carlo Tracanna allo sgombero cautelativo di nove abitazioni, in tutto 12 famiglie da evacuare. Del resto che sotto queste case ci sia qualcosa che non va lo si vede ad occhio nudo. Nella parte centrale del muro di contenimento dell'insediamento abitativo la sabbia affiora copiosa, cosa che non avviene però per le case lato nord e lato sud, ai due estremi, che infatti non sono interessate dallo sgombero. Il rimedio c'è, ma l'intervento è importante e oneroso. Già da dicembre un geologo della protezione civile regionale aveva relazionato in merito allo stato dei luoghi sia terreni che fabbricati. Poi alcuni giorni dopo ho convocato tutte le famiglie per portare a conoscenza di quello che stava per accadere. Abbiamo fatto capire che comunque stava per essere messo in ordinanza. Comunque umanamente è comprensibile lo stato d'animo di queste famiglie. Purtroppo il mio ruolo mi dice che devo, come ho fatto, emettere l'ordinanza. Loro devono uscire in base all'ordinanza. Abbiamo anche indicato alcune abitazioni tipo B&B. Ieri abbiamo fatto richiesta dello stato di emergenza, della protezione civile, chiedendo anche per il ristoro alle famiglie e per la messa in sicurezza del versante. Poi una volta messa in sicurezza la frana è normale, bisogna verificare lo stato delle abitazioni. Le abitazioni sicuramente hanno bisogno di interventi, ma potranno anche rientrare, ma non adesso. Secondo me la cosa è lunga. Se non si blocca, non si frena, non si ferma la frana, c'è il rischio che anche la trepidazione possa essere oggetto di ordinanza. Grazie a tutti.